Volevo proprio chiedere a Moncini su Castori, un allenatore che ha cambiato tanto, tantissimo, rovesciato la squadra al di là degli interpreti e del modulo, ti chiedo l'approccio con una persona più che un allenatore di questo tipo. Lui fa un calcio tutto suo, quindi magari le prime settimane anche negli allenamenti non è stato facile, perché noi eravamo abituati con Camplone a giocare molto la palla a terra, partire le azioni dal portiere, invece il mister è un po' più concreto, palla avanti, palla indietro, attacchiamo alla profondità. Quindi all'inizio non è stato facile, non per tutti, anche per i centrocampisti che hanno abituato a giocare la palla, però come i risultati stanno arrivando, in più devo dire che come uomo anche prima della partita ci ha fatto i complimenti per come si allenavano tutti i giocatori. Gabriele, tra l'altro la prima volta per te in campo al Tardini? Sì, se dovessi giocare sì, sono già stato con Di Carlo. La partita che dicevamo prima, un Parma con tanti giocatori di esperienza, soprattutto in difesa, tra l'altro ci sono due uomini, qui lo vedete Di Gaudio e l'altro è Gagliolo, fedelissimi di Castori, insomma del Carpi, dei Miracoli. Che partita e soprattutto che avversario ti aspetti? Mi aspetto un avversario forte, perché hanno una squadra costruita per vincere il campionato, sicuramente noi andremo lì sperando, puntando tutto su, secondo me, sulle ripartenze, penso che il mister la prepari così, anche perché in velocità possiamo far male e mi aspetto sì un Parma che cercherà di fare la partita, ci aspettiamo questo tutti, penso.